Una vincita da 5 milioni di euro? Come l'avete saputo voi? No, mi hanno mandato una lettera di ringraziamento. Chi l'ha mandata? Eh sì, chi l'ha mandata? Anonima. Anonima, praticamente. Anonima, ma la serie corrisponde? No, non abbiamo la certezza del biglietto, adesso sta presentando il monofonio. Tutto è ok. Noi ci hanno mandato solo la lettera di ringraziamento che loro hanno vinto i 5 milioni di euro. Sì, ma tu ritieni sia un gruppo oppure una sola persona? Non lo sappiamo, non lo posso capire. È un biglietto di quelli da 20 euro? Sì, sono da 20 euro. Quando avete avuto la lettera? Stamattina. Stamattina ricevuta. Quindi non è nemmeno raccomandata la lettera, una lettera normale? Non è stata una lettera normale. Una prioritaria normale? Sì, 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 magari. È possibile? Ci faccio. Sì, sì, sì.